Il Signore ci perdona, ci prende per mano e ci aiuta ad andare avanti. Un incontro commovente, quello tra Papa Francesco e i carcerati della casa circondariale di Sernia. Il pontefice, alla terza tappa della sua intensa visita pastorale in Molise, ha ricordato che nonostante gli errori e le cadute, nonostante il dolore per le conseguenze di scelte sbagliate, l'importante nella vita è andare avanti, procedere lungo il cammino con speranza. Non state fermi, ha insistito, ma camminate ogni giorno. Dio è Padre e misericordia, ci ama sempre. Se noi lo cerchiamo, ci fa rialzare e ci restituisce pienamente la nostra dignità, perché Dio non si dimentica di noi.